Grazie a tutti voi, pregherei di mandare il primo video che ho preparato. In the last days of the Roman Empire, at the fall of civilisation, one woman, a legend, ahead of her time, stood to unite mankind. Whatever may be going on in the streets, we are brothers. Where are the troops? No army could contain that mob. He's calling for the annihilation of women and children. As long as God grants me the strength, I will purify this city. In these years I've been studying, if I could just unravel this. Why should this assembly accept the counsel of a woman? Enough! If you choose to do nothing, then I will continue to do the same thing over and over again. Until there is no one left in the city. No people for this government to govern. I don't want to know! 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 Lesson! There, no man of God! Your God has not yet proved himself more merciful than his predecessor! I won't be able to protect you any longer. Avete visto il trailer di un film di Alejandro Menavar uscito nel 2006 forse qualcuno di voi a suo tempo l'ha visto e io vi direi di dimenticare quello che avete intravisto in questo trailer perché è prevalentemente falso ma falso in che senso? Il titolo che prima Ugo Cardinale ha evocato nel mio libro La vera storia di Pazio è un titolo ironico che si rifà a un concetto camforiano se possiamo dire che è quello di storia falsa è molto difficile naturalmente trovare la verità ma per farlo l'unica possibilità è smascherare le mistificazioni le falsificazioni e tutto quello che la propaganda anzitutto ma poi anche come dire l'incoercibile tendenza umana all'ipocrisia e alla mistificazione ha sovrapposto a quei nudi fatti che probabilmente non raggiungeremo mai ma che noi storici facciamo di tutto per raggiungere un altro come dire padre del pensiero storiografico e non solo filosofico della filosofia della storia Croce diceva è quasi una banalità ripetere questo questo suo detto si fa storia solo del presente in questo senso il film di Amenavari invece è vero è un film che non parla di pazia nel senso storico ma parla di quanto stava avvenendo e in parte avviene ancora nel Medio Oriente parla sostanzialmente del fondamentalismo e cerca di mostrare come il fondamentalismo del monoteismo cristiano della giovane chiesa cristiana che nel quinto secolo d'Alessandria aveva un grande potere e che nelle mani prima del vescovo Teofilo e poi di suo nipote il vescovo Cirillo cercava di dare a questo potere un carattere teocratico simile tutto sommato a quello del papato di Roma e questo fra l'altro è uno dei motivi per cui la vera storia o comunque la storia di Pazia è stata sottoposta a tutta una serie di manipolazioni nel corso dei sedici secoli che ci separano dai fatti da quei fatti che nel 415 dopo Cristo nel quinto secolo alla vigilia della silenziosa e presunta caduta dell'impero romano comunque d'occidente insanguinarono queste strade le strade di una città davvero a cavallo tra oriente e occidente che fra l'altro forse se Cesare non fosse stato assassinato se Antonio non fosse stato battuto sarebbe diventata capitale dell'impero romano ma che in qualche modo avrebbe ispirato un altro un ulteriore spostamento di capitale quello che nel quarto secolo avviene tramite Costantino con la fondazione di Costantinopoli quindi lo spostamento della capitale del bar di centro stesso dell'impero a oriente quindi a cavallo davvero tra oriente e occidente a Costantinopoli ed è Costantinopoli il governo lo stato centrale cui i fatti violenti del quinto secolo di Alessandria che sono avete un po' visto ricostruiti così un po' un po' sommariamente si svolgono diceva Croce si fa storia solo del presente il film di Amenavar interviene sulla crescente in quel momento montante fondamentalismo islamico per dimostrare che questo non è appannaggio dell'islam in quanto tale ma è appannaggio di quantomeno di di un'altra di un altro monoteismo di un'altra delle religioni del libro e a questo proposito vi voglio dire una cosa conoscete Pier Giorgio di Freddi un matematico a un certo punto qualche anno fa gli viene una curiosità si interessa i pazzi mi telefona e gli do qualche informazione e poi gli dico ma Papa Ratzinger che ti è caro che tu frequenti in un'audienza pubblica tenuta appunto qualche tempo fa quando era Papa ha lodato il governo ecclesiastico di Cirillo parlando della sua grande energia e questo mi sembra un po' fuori luogo perché in questa energia rientra l'assassinio di Ipazia noi sappiamo dalle fonti lo vedremo brevemente ma più che altro analizzeremo come questa diretta testimonianza delle fonti sia stata diluita tanto da fare quello di Ipazia un cold case che tale non è perché fin dai suoi contemporanei il mandante del suo omicidio quantomeno è stato chiarito come è possibile che si lodi questo governo ecclesiastico così violento così sanguinario e poi così atroce per quanto riguarda una storia che è stata quella dell'assassinio di Ipazia che è stata appunto uno scandalo per 16 secoli senza menzionarla e Odifreddi va dal papa anzi a questo punto dall'ex papa gli parla di Ipazia e mi manda poi il pdf della lettera che Ratzinger gli ha mandato come risposta e dice sono molto triste nell'apprendere il triste fatto di Ipazia quindi non lo conosceva non ne sapeva nulla nonostante di migliaia e migliaia di pagine proprio di storici ecclesiastici dedicati a questo ma devo osservare che il fanatismo è purtroppo necessaria caratteristica di ogni grande religione ai suoi esordi questo lo ha detto un papa e quindi possiamo come dire darlo non soltanto per per vero ma anche come dire considerarlo punto dal crisma della della santa sede ma questa è soltanto una delle maschere più moderne di Ipazia cioè una maschera che si rifà alla percezione che di Ipazia ha avuto l'illuminismo pensiamo anzitutto a Diderot all'encyclopédie dove si tratta dell'omicidio di Ipazia alla voce exedifanatism eccessi del fanatismo e quindi Ipazia è vista come icona della tolleranza rispetto al fondamentalismo religioso al fondamentalismo in questo caso incarnato nel caso di Ipazia dalla chiesa dalla giovane chiesa cristiana e nel caso del film di Amenavar con trasparentissima analogia anche proprio negli accenti nel modo di parlare dei dei monaci cosiddetti parabalani che sono secondo tutte le fonti gli autori materiali gli esecutori materiali dell'omicidio di Ipazia e che erano provatamente la milizia del del vescovo di Alessandria milizia sia di Teofilo che attraverso di loro fra l'altro perpetra la distruzione del Serapeo di Alessandria e poi di suo nipote Cirillo che fra l'altro tra questi monaci che albergavano principalmente nel deserto di Alnatrum cioè di Nitria era proprio cresciuto e si era proprio creato una sorta di esercito personale ci sono altre maschere sarebbe lunghissimo raccontarle ma Ipazia è stata un po' di tutto è stata appunto è stata campione dell'eclettismo fra l'altro così si autodefinivano ma definivano anche la filosofia alessandrina i figli dei lumi prima ancora in Inghilterra del libero pensiero il free thinker John Tolland ha scritto un testo forse il primo della letteratura moderna è stata eroina romantica è stata eroina decadente è stata due cose importanti di cui parleremo e su cui ci concentreremo in questi pochi minuti e cioè è stata da un lato icona del femminismo o del protofeminismo e in secondo luogo è stata diciamo una sorta di precorritrice di Galileo è stata vista come una sorta di Galileo in gonnella si è ipotizzato da parte di storici della scienza anche autorevoli che Ipazia di cui appunto conosciamo gli interessi matematici e astronomici sia stata uccisa condannata dalla Chiesa per scoperte che sarebbero state ingombranti ingombranti per la Chiesa che quindi si sarebbe posta in conflitto con la Chiesa tanto da creare una damnazio memoria e quantomeno una distruzione sia delle sue opere e sia del corpus di opere della sua intera scuola di cui effettivamente nulla è a noi rimasto ma prima di parlare di questo che sarà al centro di questa breve conversazione vorrei dirvi che Ipazia è stata anche ed è una santa cristiana vedete questa è la Santa Caterina d'Alessandria di Caravaggio quella del Madrid e qui vedete una Santa Caterina d'Alessandria forse ancora più evocativa che quella di Masolino da Panicale negli affreschi di San Clemente della Basilica di San Clemente a Roma è stato dimostrato a partire dall'Ottocento sia da parte laica sia soprattutto dalla erudizione ecclesiastica che Santa Caterina d'Alessandria è una santa fantasma che viene creata diciamo a partire dal VI secolo tra l'altro abbastanza in concomitanza con quel cambiamento di dedicazione del monastero che oggi porta il suo nome ma che prima era altrimenti intitolato e dedicato abbiamo studi di geografi di esperti di passioni dei martiri e quindi sappiamo che in realtà la necessità di creare una santa cristiana con le stesse caratteristiche di ipazia ossia una maestra una donna adottissima che insegnava a un uditorio maschile come vedete anche da queste immagini insegnava insegnava la scienza dei numeri e insegnava anche la filosofia le due cose erano ovviamente inscindibili trattandosi di una filosofa platonica ed essendo il suo insegnamento svolto nella in un luogo pubblico forse non più nel museo ma comunque su una cattedra finanziata dalla municipalità di alessandria almeno una parte del suo insegnamento vedremo che poi c'è forse un'altra parte una parte più esoterica che ipazia impartiva invece nella sua stessa abitazione nella sua stessa dimora non estranea le abitudini delle accademie platoniche questa diciamo parte esoterica e probabilmente diciamo la scoperta di questa parte esoterica è l'elemento scatenante che genera quello che le fonti chiamano phtonos questa sorta di violenta gelosia di questo accesso di invidia del vescovo Cirillo che procurerà poi il suo assassino la devozione che probabilmente si era creata per questa martire invece pagana che era ipazia tra il quinto e il sesto secolo probabilmente la si può considerare anche attestata da alcuni elementi che abbiamo ma di cui se abbiamo tempo parleremo in seguito è comunque altamente probabile che si fosse creato un culto pagano e che quindi fosse necessario come un po' sempre accade all'inizio quando c'è questo diciamo avvicendamento cultuale quale ci fu tra il quarto e il quinto secolo nel mondo orientale e occidentale di cui ci stiamo occupando così come c'è un trasferimento di divinità o figure eroiche pagane in quelle dei santi cristiani e allo stesso modo probabilmente il culto di ipazia viene trasferito in un culto cristiano ma che cosa accade in realtà e di cui diciamo possiamo essere abbastanza certi noi sappiamo che nella primavera del quattrocentoquindici durante la quaresima ipazia questa donna anziana ma che possiamo supporre di 45 anni circa sulla base di una serie di elementi cronologici anch'essi molto discussi viene aggredita nel momento in cui si trasferisce da questo luogo al centro della città dove tiene le sue lezioni pubbliche alla sua dimora privata dove appunto tiene le sue lezioni private viene trascinata giù dalla carrozza viene smembrata fatta a pezzi con frammenti di coccio a guzzi c'è stata una grande discussione gibbon perché il greco è ostraca gibbon dice gusci di ostriche e ci sono stati letterati che si sono divertiti nel dibattere su quale fosse l'arma dell'assassinio ovviamente una grande città per lo più portuale comunque un grande centro commerciale come Alessandria non poteva che essere cosparsa di frammenti di coccio di quei contenitori che sarebbe come le diciamo le buste di plastica di oggi che contenevano le merci e non potendo i privati non militari entrare in città armati erano le armi improprie che venivano usate per gli atti di violenza come vedremo anche per il pogrom antiebraico del grande pogrom antiebraico anch'esso istigato da Cirillo poco poco prima pochi giorni prima possiamo dire dell'assassinio di Pazia ma tornando di Pazia viene quindi smembrata viene trascinata nella chiesa il cosiddetto Cesareo di Alessandria la chiesa cattedrale qui le vengono cavati gli occhi mentre ancora respira se dobbiamo dare retta alla versione che ci dà attraverso un lessico medio bizantino suida una fonte pagana come Giamblico comunque anch'essa diciamo contemporanea ai fatti che si aggiunge alle fonti cristiane noi abbiamo una concordanza quasi assoluta su questi dati da parte delle fonti contemporanee tanto pagane quanto cristiane e non solo cristiane diciamo moderate come ad esempio Socrate scolastico l'autore di una storia ecclesiastica che tratta questi argomenti da un punto di vista costantinopolitano come dice il nome scolasticos Socrate oltre che un ecclesiastico e uno storico era un avvocato alla corte di Costantinopoli ma proprio in quanto tale era a conoscenza dei fatti che venivano comunque trasmessi anche attraverso dispacci ufficiali e contro dispacci inviati alla corte dal prefetto augustale costantinopolitano Oreste da un lato e dal vescovo Cirillo dall'altro che aveva un orecchio particolarmente sensibile a corte da parte della sorella maggiore del giovane imperatore Teodosio ossia pulcheria definita una monaca porporata ossia una donna di potere molto molto legata al cristianesimo Alessandrino in particolare dopo questo viene portato questo suo corpo già brutalizzato forse viscerato questo ci viene in parte suggerito ma non ne siamo certi al Chinaron dove viene bruciato e questo ha fatto anche sì che qualcuno dicesse definisse Ipatia la prima strega bruciata sul rogo dalla chiesa cattolica o dalla chiesa cristiana questi fatti le mistificazioni ripeto dei fatti sono molte ma io vorrei osservare anzitutto un dato che queste mistificazioni queste maschere perché poi noi parliamo di mistificazioni ma in quanto espressione in ogni tempo degli interessi delle domande che quel tempo quella cultura pongono al passato noi forse le possiamo comunque considerare vere queste maschere nel senso che è la sovrapposizione di queste maschere la loro giusta posizione che crea quell'oggetto storico che oggi per noi è Ipatia quindi non le vogliamo necessariamente contestare confutare non vogliamo togliere loro dignità però dobbiamo come dire sottrarle e comunque conoscerle e conoscere la loro come dire in qualche modo il loro legame più forte con il presente in cui sono state create che con il passato a cui si riferiscono per fare storie e dicevo tra queste maschere noi però vediamo sempre una identificazione fino appunto a questo secolo un'identificazione con Ipatia dell'elite Ipatia è sempre stata un mito dell'elite le maschere di Ipatia in qualche modo sono sempre state legate a quest'idea dell'intellettuale che è tollerante colto che viene sacrificato in nome di un qualche potere poi può cambiare il potere può cambiare l'immagine ma sostanzialmente è a una visione elitaria e intellettualistica che si è sempre ancorato il mito di Ipatia dopodiché oggi a partire dal film di Amenavar ma probabilmente non è tanto il film in quanto tale che ripeto affronta un aspetto specifico e una maschera specifica di Ipatia probabilmente lo spirito del tempo non dimentichiamo che siamo all'indomani del secolo delle donne in qualche modo di Ipatia Ipatia ha cominciato a diventare un'icona pop a diventare il simbolo non non tanto dell'intellettuale elitario che si contrappone al populismo diciamo ecclesiastico di qualunque chiesa si tratti ma diventata il simbolo di chiunque sia stato oggetto di violenza di ingiustizia e non abbia ricevuto riconoscimento e lo aspetti nel tempo lo aspetti dai posteri lo aspetti a posteriori questo è un fenomeno al quale credo di potervi dire di avere assistito di persona quando sei anni fa dopo una petizione anzi una serie un un quacervo di petizioni che inviate all'ufficio toponomastico del comune di Roma siamo riusciti vi dirò quel siamo a chi si riferisce a far dedicare a Ipazia si diceva una via una piazza in realtà è dedicato a Ipazia oggi a Roma un giardino questo giardino e qui c'è lo zampino della sottoscritta è stato individuato all'epoca con Google Maps si riusciva a fare proprio accanto alla chiesa all'epoca in costruzione dedicata a San Cirillo d'Alessandria e quindi se voi andate in questa borgata romana dove c'è questa chiesa di San Cirillo d'Alessandria fate due passi e vi trovate nel giardino Ipazia all'inaugurazione del giardino Ipazia che era tra l'altro stata fatta per l'8 marzo partecipava con un entusiasmo incredibile una quantità di persone veramente come dire veramente accomunata da ciò che Ipazia è oggi ovviamente molti collettivi femministi ovviamente associazioni di attualità oggi non voglio giocare sull'attualità ma questo è avvenuto ripeto sei anni fa associazioni di vittime di violenza domestica di abusi e partigiani lampi associazioni ebraiche ma anche associazioni di famiglie che nei quartieri periferici di Roma avevano accolto rifugiati diciamo clandestini avevano nascosto ebrei durante il fascismo e una serie una galassia di altre associazioni gruppi che vedevano in Ipazia questo e io posso dirvi che ho assistito a canti danze lacrime di queste donne per esempio che appunto in Ipazia vedevano il simbolo della violenza sul corpo femminile che lo avevano subito di persona canti di ebraici canti partigiani insomma un'icona di qualcosa di molto più democratico se vogliamo o comunque diffuso e popolare di quanto non sia stato nei secoli passati ma quest'icona come vi dicevo è lontana dalla identità effettiva dell'Ipazia del quinto secolo qui vedete una foto piuttosto rara fatta da uno studioso tedesco Hafner nel 1922 prima nel museo di Afrodisia in Asia minore prima che questo museo venisse distrutto da un incendio e che quindi questo medaglione combusto congetturato da Hafner stesso di Ipazia venisse distrutto questo medaglione probabilmente si trovava in una in una o cenotafio di Ipazia o una struttura di insegnamento in cui si riunissero comunque accoliti dell'accademia platonica è probabilmente uno degli elementi che ci fanno pensare in ogni caso a una celebrazione della figura di Ipazia secondo uno studioso Enrico Livrea che non conosce l'esistenza di questo medaglione lo stesso epigramma di Pallada nell'antologia palatina dedicato a Ipazia che menziona fra l'altro le costellazioni in particolare la costellazione della Vergine doveva essere una epigrafe iscritta accanto a una immagine o a un busto di Ipazia in un luogo di culto o in un cenotafio o in un luogo di insegnamento le due come dire le due valve combaciano e si può immaginare che ci fosse una volta stellata almeno questo immagina Livrea nella nell'esegesi quindi dell'epigramma di Pallada questo cosa significa che Ipazia era sicuramente un'insegnante di grande prestigio di grande fama anche internazionale e di grande carisma i suoi allievi si innamoravano di lei si parla della sua grande bellezza ma soprattutto del suo fascino si parla della parresia cioè della sua capacità è stata definita da Alan Cameron elegant insolence elegante insolenza che è un buon modo di tradurre questa questa espressione che viene spesso usata per il per il filosofo cinico e comunque per coloro per quegli intellettuali che non hanno peli sulla lingua sostanzialmente lei parlava con la stessa in modo diretto e con la stessa franchezza anche ai potenti dai quali era molto ascoltata qui io vi riassumo le fonti unanime ripeto che ci vengono riportate in parte dalla tradizione dell'epoca quindi del quinto secolo come Socrates scolastico in parte dalla tradizione indiretta in particolare da Fozio nel nono secolo e da Suida nel decimo oltre ad altre fonti che invece ci sono rimaste come Malalas per esempio questo per i classicisti però diciamo che c'è un consensus delle fonti su questa sua capacità di influenzare grazie alla sua parresia ma anche alla sua intelligenza politica viene proprio definita politiche ipazia di influenzare le decisioni dell'elite della della sua città e in particolare appunto del prefetto augustale Oreste cioè l'inviato del governo centrale di Costantinopoli ci informano anche le fonti che queste persone potenti cioè parliamo dell'elite non soltanto politica o amministrativa ma proprio economica dell'aristocrazia diciamo dell'antica aristocrazia ellenica della capitale o megalopoli comunque della capitale dell'Egitto e questi personaggi inviati cioè sostanzialmente Oreste si recavano a casa sua per chiederle parere e questo parere ipazia dispensava con franchezza ma anche con equilibrio e tutti la seguivano e la veneravano nella città in cui viveva il diciamo il parere più difficile e quello fatale che ipazia diede è quello che riguarda il grande pogrom che Cirillo lanciò nel 415 contro l'antichissima e popolosa e molto ricca comunità ebraica della città di Alessandria i cui esponenti possiamo immaginare facessero parte di questa diciamo elite che si riuniva a casa di ipazia a mio avviso la vera questione al di là della sovrastruttura diciamo così religiosa che si legge che si può leggere nelle lettere festali ad esempio di Cirillo cioè c'è proprio una vocazione anti-ebraica anti-giudaica che è tipica peraltro del cristianesimo di questo periodo ma che soprattutto è tipica del cristianesimo alessandrino e anche i predecessori di Cirillo avevano in qualche modo agito in questo senso però in Cirillo come tutto anche la diciamo la lotta contro la da un lato la la religione madre da cui il cristianesimo si è staccato e che è diventata concorrente confessionale ma più concretamente la lotta diciamo per per il predominio politico ed economico nella città si fa più grave io credo che la questione sia fra l'altro diciamo delimitabile a un un argomento apparentemente minuto ma molto importante il grande business che aveva reso sempre molto ricca la comunità ebraica di Alessandria era l'appalto del trasporto del grano da Alessandria a Costantinopoli l'Egitto era il granaio del mondo comunque dell'Europa le 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 spedizioni di grano erano importantissime chi le spediva faceva molti soldi noi sappiamo leggiamo nel codice teodosiano che teodosio concede questo appalto che prima era stato diciamo esclusivamente della comunità ebraica era stato monopolio della comunità ebraica lo concede anche alla chiesa cristiana noi abbiamo notizie di naviculari così si chiamavano che facevano capo alla chiesa cristiana e quindi piuttosto probabile che più che motivazioni religiose ci fossero interessi specifici non dico solo questo ma probabilmente questo era in quel momento qualcosa di molto importante perché la chiesa aveva bisogno di creare una sua classe una sua classe ricca una sua elite e il pogrom che Cirillo suscita si risolve in una totale emigrazione temporanea degli ebrei presenti in città sempre a quanto ci dice Socrate scolastico e a quel punto è ipazia ci dicono le fonti a influenzare fortemente Oreste perché non ceda alle insistenze di Cirillo e insista perché la questione sia risolta e le violenze contro gli ebrei siano diminuite ed è così si ha un escalation si ha un assalto prima al corteo di Cirillo di Oreste sempre da parte di questi fondamentalisti di queste milizie armate una pietra scagliata entra dentro la carrozza ferisce alla testa il prefetto Augustale la cosa non si può tollerare il colpevole tale Ammonio viene arrestato messo sotto interrogatorio si sa come finiscono a volte gli interrogatori purtroppo muore sotto interrogatorio esequi e solenni da parte di Cirillo e della comunità che lo attornia e che nel suo discorso funebre lo ribattezza Taumasio l'ammirevole quindi il suo gesto di scagliare una pietra in testa al governatore di Costantinopoli è un gesto ammirevole a questo punto si ha l'escalation Oreste non cede Cirillo non cede ma chi viene colpito viene colpita Ipazia e perché perché improvvisamente per una diciamo concomitanza di eventi Cirillo e questo ce lo raccontano varie fonti raccolte da Suida si trova a passare lontano dal centro cittadino in uno dei quartieri Alessandria era suddivisa blindata possiamo dire in diversi quartieri sulla topografia di Alessandria e l'urbanistica di Alessandria ci sono enormi studi Ipazio viveva in un quartiere residenziale molto verde pieno di giardini molto bello in cui Cirillo non era mai stato si trova ci dice Suida a passare vede davanti a una bellissima casa un affollarsi di carrozze di cavalli di servitori di staffieri di persone che entrano chiede di chi è questa casa gli viene risposto è di Ipazio la filosofa e improvvisamente capisce che dietro questa sorta di massoneria che stringe interessi della vecchia aristocrazia convertita al cristianesimo ma di fatto ancora pagana della diciamo comunità ebraica e della rappresentanza del governo pur anch'esso nominalmente cristiano di Costantinopoli dietro a questo sodalizio dietro a questo muro che si trova davanti Cirillo c'è una donna c'è Ipazio e qui forse se ho tempo c'è da aggiungere qualche cosa per completare il quadro perché queste riunioni è vero portavano Ipazia al centro della vita politica oltre che della vita culturale di Alessandria noi sappiamo che Ipazia oltre a insegnare la filosofia come dicono appunto le fonti di Platone Aristotele di quegli altri filosofi a chiunque la volesse ascoltare praticava osservazioni astronomiche di cui poco c'è rimasto nel senso che anzi delle osservazioni non c'è rimasto nulla se non le macchine che faceva costruire i suoi allievi cioè non ci sono rimaste le macchine ma c'è rimasta la descrizione di queste macchine e ci viene fornita dal suo allievo prediletto Sinesio in alcune delle sue epistole in questo grandissimo testimonianza del mondo del cosiddetto conflitto tra paganesimo e cristianesimo che in realtà conflitto non era se pensiamo che Sinesio allievo di Ipazia pagano paganissimo diventa vescovo di Tolemaide e come tale esercita le sue funzioni ma ciò che scrive è il rivelatore di quella che doveva essere all'epoca la situazione pensate che una lettera nell'epistola E'uozio ad esempio dice tranquillamente di considerare favole per i semplici per il popolo alla stregua dei miti degli accoppiamenti e degli amori degli dei dell'Olimpo dogmi come quello della resurrezione dei corpi addirittura la Pasqua lui non ci crede ed è un vescovo quindi siamo come dire in una situazione piuttosto magmatica ed è probabile che attraverso le osservazioni scientifiche e anche attraverso il suo insegnamento platonico ciò a cui mirava Ipazia che appunto aveva non soltanto Sinesio tra i suoi allievi ma sono attestati altri allievi cristiani che poi faranno carriere che peraltro non era possibile fare senza essere battezzati a partire appunto dall'editto cosiddetto di intolleranza di Teodosio che richiedeva il battesimo cristiano per chiunque volesse avere delle funzioni ufficiali nello Stato è probabile che Ipazia avesse questa funzione una funzione diciamo pacificatrice e di orientamento delle coscienze per cui alla fine se pensiamo a questa a questa giovane aristocrazia che aveva ancora una 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 ferma fede nei valori della paideia antica nei valori che appunto il paganesimo insegnava ma che era costretta in qualche modo in mala fede a convertirsi Ipazia insegnava che non c'era a livello filosofico un livello più alto una grande differenza tra l'uno di Plotino e il dio dei cristiani sostanzialmente insegnava il platonismo e insegnava il cristianesimo filosofico non insegnava il cristianesimo ma insegnava a vedere il cristianesimo in una forma filosofica ed è quello che possiamo trarre dalla lettura non soltanto dell'epistolario di Sinesio ma anche dei suoi trattati in particolare del Dione che ci parla proprio di misteri di abbebe la dogmata di diciamo di rivelazioni irrivelabili e misteriose che Ipazia impartiva ai suoi allievi ovviamente non al grande auditorio delle elezioni pubbliche ma al più ristretto uditorio che costituiva la sua cerchia esoterica e che forse si identificava con quello stesso uditorio politico diciamo di cui con quelle stesse elite di cui abbiamo poc'anzi parlato Ipazia viene definita qui vedete la scuola d'Atene di Raffaello la prima c'era la bellissima Ipazia di Anselm Kiefer qui vedete la scuola d'Atene di Raffaello e vedete che Ipazia questo è il cartone preparatorio molto bello e vedete che Ipazia no qui non lo vedete bene vediamo ecco qua si vede meglio è ritratta accanto a Pitagora nella cerchia dei pitagorici perché è proprio al neopitagorismo alla dimensione sacrale quasi sacerdotale comunque irrazionalista neopitagorica delle scuole platoniche dell'epoca che con ogni probabilità si rifaceva l'insegnamento di Ipazia un insegnamento che quindi era un insegnamento che comportava uno status sacerdotale non solo carismatico ma realmente sacerdotale se noi pensiamo agli epiteti che usa Esinesio per rivolgersi a lei madre sorella patrona signora beata dall'anima divinissima qui vedete dovete sapere che gli studiosi americani chiamano Ipazia patti così tra loro e non sanno che già Ugo Pratt negli anni settanta aveva inserito Ipazia in uno dei suoi dei suoi libri illustrati la favola di Venezia e le aveva dato i tratti di Patti Bravo Ipazia Patti qui siamo una riunione massonica cosa poi forse non tanto diversa insomma da queste riunioni di cui abbiamo parlato quindi diciamo che l'elemento sacerdotale è un elemento importante ed è proprio diciamo questa duplice questa duplice configurazione di Ipazia cioè il fatto di essere una scienziata osservatrice del cielo stellato e autrice comunque di osservazioni fisiche matematiche astronomiche oltre che diciamo insegnante docente di matematica noi non abbiamo nessuna opera ma sappiamo da Suida che compose commenti all'algebra di Diofanto e alle coniche di Apollonio di Perga e delle tavole facili che forse è un astronomico Scannon che forse è un commento alle tavole facili di Tolomeo quindi testi abbastanza elementari di matematica che insegnava ma sappiamo anche che questo insegnamento nelle scuole platoniche aveva dei risvolti che lo facevano confinare con il sacro con la sfera del sacro con la sacralità dei numeri con quella idea diciamo di ordine cosmico che in qualche modo a partire da Plotino e poi negli sviluppi del neoplatonismo avrebbe in qualche modo creato una sorta di religione filosofica e allora queste due versioni di Pazia in apparente conflitto non soltanto non lo sono ma probabilmente ci spiegano ci danno una motivazione in più per questo attacco di Ftonos come lo definiscono le fonti che induce Cirillo a dare mano libera ai suoi uomini come ci dice Malalas usando la parola parresia in un altro in un altro senso o a complottare il suo assassino come ci dice Socrate come ci dicono altri o addirittura come ci dice una fonte copta vicina a Cirillo che tifa per Cirillo Giovanni di Nichiu a essere portato in trionfo per il fatto che uccidendo i pazzi ha liberato definitivamente dai residui di Paganesimo e purificato la città di Alessandria ma queste due cose se pensiamo allo status sacerdotale di di Ipazia che si univa come l'altra faccia di una moneta alla sua sapienza matematica ci porta a ritenere che non soltanto si trattasse di una concorrenza possiamo tradurre Ftonos anche come concorrenza una concorrenza economica una concorrenza commerciale che aveva quindi al suo centro il problema la problematica della comunità ebraica ma anche davvero come un'invidia nel senso che forse il vescovo che presto come per citare Peter Brown si sarebbe sostituito al filosofo nel suo ruolo di consulente civico nelle città della tarda antichità e della prima Bisanzio il vescovo sente che il suo ruolo il suo ruolo di orientatore di coscienza il suo ruolo sacerdotale è usurpato ed è usurpato da una donna e questa è la cosa più grave grazie 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 grazie